Pausa estiva burrascosa per il presidente della regione Paolo Frattura che si trova in villeggiatura nella sua residenza estiva ubicata sul lungomare nord di Termoli. Nei giorni scorsi ci è giunta una segnalazione secondo la quale il governatore in persona avrebbe impedito l'accesso allo stabile di una inquilina che aveva regolarmente preso in locazione un appartamento. Nello stesso stabile della villa Frattura ma di proprietà di altri privati cittadini. La malcapitata è stata costretta a rivolgersi ai carabinieri di Termoli i quali hanno temporaneamente permesso all'affittuaria di entrare nel suo appartamento. Il giorno successivo però l'episodio si è ripetuto e nonostante l'intervento della polizia di stato giunta sul luogo al posto dei carabinieri ai quali si era nuovamente rivolto alla cittadina è stato tassativamente impedito alla stessa di poter accedere nella sua abitazione e tuttora non riesce ad entrare. La villa infatti è rimasta ermeticamente inaccessibile e addirittura presidiata da guardia armata come testimone a questo cartello. La stessa guardia giurata ha dichiarato di aver ricevuto ordine perentori dal presidente Frattura per impedire l'accesso a persone a suo dire non autorizzate. La vicenda avrebbe determinato la presentazione di un esposto nei confronti dei proprietari della villa per turbativa violenta del possesso di cose immobili. La stessa villa apparterebbe per il 50% alla società PTS Village di Gianluigi Torsi e per la restante metà alla società Proter che fa capo al presidente Paolo Frattura. Peraltro secondo i vecchi proprietari lo stabile composto da circa 700 metri quadri di fabbricato e circondato da 2.500 metri quadrati di terreno sarebbe stato acquistato ad un prezzo irrisorio a fronte di un valore commerciale pari a circa un milione e mezzo di euro. La circostanza, se fosse vera, sarebbe davvero strana e meritevole di adeguato approfondimento. Fermo restando l'accertamento dei fatti da parte degli organi competenti su quella che appare una banale litia condominiale, resta da chiarire il rapporto tra il presidente Paolo Frattura e l'imprenditore Gianluigi Torsi su eventuali intrecci tra politica e affari. Resta anche da capire come mai in tempi di totale distacco delle istituzioni dai cittadini il presidente della piccola regione molise Paolo Frattura nel suo meritato periodo di riposo al mare decida di far sorvegliare lo stabile da lui occupato da una guardia armata piuttosto attenta a controllare gli accessi perfino di coloro che si dichiarano legittimi affittuari di un appartamento. Da parte nostra ci chiediamo semplicemente perché il molisano più importante come il presidente della regione impedisce ad una famiglia che ha sottoscritto un regolare contratto di locazione di poter utilizzare quell'appartamento? Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille!